Siamo in compagnia del protagonista di questo ottavo di finale vinto dai Damm, siamo con Cuomo, realizzatore addirittura di tre reti in una sola gara, allora parlaci un po' di questo match. È stato un match importante, ho fatto tre gol, ho contribuito a non andare alla partita di ritorno alla squadra, siamo direttamente quarto di finale perché abbiamo vinto con un quattro gol di scarto, l'ultima rete, l'ultima rete, l'ultima rete ha fatto io all'ultima minuta del recupero. Quindi è una cosa nuova perché è una tripletta. Sono un difensore, sono i primi tre gol del torneo di acqua. Insomma la miglior prestazione è il momento più decisivo del torneo. Perfetto, allora in bocca al lupo per i quarti di finale. Grazie, grazie. Ciao.